A che punto è la messa? È tardi ormai, aprai. Non andate contro il rotto. Che avete detto? E mentre corredi, agli occhi al vento, a padegnarvi il mare, l'ora adorna il tetto e il marmoro, ah, nel nome di Dio, santa accadite, il burro. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.